Viene bloccato dai carabinieri mentre la guida dalla sua propria auto completamente ubriaco. Il fatto è accaduto nella serata di ieri a Tarcento. A effettuare i controlli i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cividale del Friuli che hanno sottoposto l'uomo, che mostrava segni evidenti della sua condizione alterata, all'alcol test. L'esito ha portato a un valore di positività di 2,3 grammi per litro, ben superiore al limite massimo consentito di 0,5, oltre il quale si è superata la soglia di tasso alcolemico prevista dal codice della strada vigente. Durante le operazioni è risultato che lo stesso stava guidando privo di patente, documento che gli era stato già sospeso in precedenza sempre per guida in stato di ebrezza. Oltre a questo dovrà rispondere anche di guida con patente sospesa. Il veicolo nel frattempo è stato sottoposto a sequestro. Grazie.